Prima di cominciare il video, ti ricordo di iscriverti al canale e lasciare un like. Grazie! La cantante e showgirl Sabrina Salerno ha recentemente affrontato un delicato intervento chirurgico al seno per rimuovere un nodulo maligno scoperto durante una mammografia di routine effettuata a luglio. Dopo l'operazione, Sabrina è tornata sui social per aggiornare i suoi fan riguardo alle sue condizioni e per condividere il suo percorso di guarigione, ringraziando calorosamente tutti per l'affetto ricevuto in questo difficile momento. Nel suo messaggio, che ha colpito profondamente molte persone, Sabrina ha voluto sottolineare l'importanza della prevenzione. In un post su Instagram, ha descritto i mesi precedenti all'operazione come un periodo di grande ansia e paura. Ha dichiarato, sono una donna abituata a fronteggiare i colpi della vita, ma ogni esperienza negativa porta con sé un insegnamento speciale. Ha inoltre evidenziato l'importanza della prevenzione, spiegando che la lesione non era visibile al tatto, ma è stata rilevata grazie alla mammografia. Sabrina ha invitato le donne a non trascurare questo fondamentale esame, dichiarando che la prevenzione è ciò che le ha permesso di individuare il problema in tempo. Dopo l'intervento, ha affermato di essere pronta ad affrontare il percorso di riabilitazione, augurandosi che sia rapido e senza complicazioni. Nonostante la naturale paura che accompagna situazioni simili, Sabrina ha mostrato una grande determinazione e spera di poter tornare presto alla sua vita normale, inclusi gli allenamenti e le esibizioni sul palco. Ha concluso ringraziando di cuore i suoi fan per il sostegno ricevuto e sperando di poter tornare a esibirsi entro un mese.